buongiorno buongiorno come sta signora molto bene come si chiama chiara perfetto e viene vengo da bologna e realizzo un sogno e quindi come mai come mai perché mio figlio alla fine ha deciso di farmi questo regalo non è che vuole la pensione subito ho avuto il sospetto ne ho tre quindi ho avuto il sospetto ma uno non voleva quindi cazzo problemi signora ci divertiamo io mi chiamo Mimmo e sono il suo figlio tanto piacere penso che l'abbia capito eh sì cerchiamo di divertirci lui è molto bravo non è un problema io sono vecchio io ho trettanto che vuole male un mese più un mese meno non è un mese più Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.